Ciao ragazzi e buongiorno Urban Decay Naked Giveaway Allora questa è la mia Naked palette Siccome io non la uso molto visto che non la uso molto però i colori sono bellissimi e certe nuance tipo Naked non neanche mai toccate e invece certe magari tipo Ecco Creep o o questo è Side Decay Ecco, magari la usate ma una o due volte alla fine ho detto sapete che cosa faccio? Io la metto in palio guardate che bellissimi tutte queste nuance in un giveaway perché molte di voi perché molte di voi praticamente magari questa palette sono decise me la compro non me la compro eccetera io le regalo in un giveaway Cosa le regole del giveaway sono? Dovete abitare in Italia non spedisco cose in altri paesi in Italia ok dovete iscrivervi a questo mio canale YouTube ok dovete lasciarmi un commento qui sotto per salutarmi o per parlare della Naked Urban Decay ok e dovete iscrivervi al mio blog che è www.armocromia.com ok venerdì prossimo lascio passare una settimana venerdì prossimo estrarò una persona tra chi mi ha scritto i commenti qua sotto e chi si è iscritto e mi lascia un commento sul post anche che ho fatto sul mio blog www.armocromia.com seleziono una persona ve lo comunicherò in un altro video chi è che ha vinto e venerdì prossimo saprete il nome della vincitrice perciò una di voi potrà ricevere la bellissima Urban Decay Naked eccola qua e questi sono tutti i colori l'ho usata solo una o due volte perciò è praticamente nuova e bellissima il valore lo sapete tutte vi do anche il suo pennello perciò avrete la vostra Urban Decay ripeto così siamo sicuri di averci capito allora iscrivetevi a questo mio canale poi lasciatemi un commento qui sotto per salutarmi o parlare della Naked andate su www.armocromia.com trovate il post di fatti che sto facendo proprio su questo video per poi sponsorizzare questo video mi lasciate un commentino anche lì e vi iscrivete tra i miei followers fra una settimana e scelgo il nominativo ve lo comunico con un video ok? dai tentate la fortuna che magari questa Naked può essere vostra ok? le iscrizioni le scrivo anche sotto questo video così le regole il regolamento così lo capite bene eccola qua in tutta la sua bellezza va bene? partecipate intanto a questo mio giveaway e buona Naked a tutte ciao ciao